Ciao a tutti ragazzi e bentornati in un nuovo video Blu Profondo Blu, il mio canale, iscrivetevi se non l'avete ancora fatto. Il canale Blu Profondo Blu parleremo solo di pesci d'acquario, come si intravede il pesciolino, quello che ieri ho fatto il video che ho comprato, si è abbastanza ambientato e oggi andremo a parlare come si riconosce il maschio del pesce e la femmina del pesce. Allora, ovviamente io non vi dico una cosa così, io dico una cosa molto vera, che sono andata a leggere e mi sono andata a informare. Allora, per riconoscere un maschio da una femmina di un pesce è molto facile, però devi riuscire a riconoscere la razza del pesce, nel senso, tu non puoi riconoscere, se prendi un solo pesce di quella razza e 10 di un'altra razza, non puoi capire l'unico pesce di quella razza diversa, non puoi capire qual è la differenza della femmina, devi averci lì due pesci della stessa razza e riesci a capire se sono due maschi o due femmine. Come si fa? Ovviamente non è che tu puoi prendere il pesce e controllarlo, l'unico modo è il colore. Il colore del pesce maschio tende a essere più scuro, si può dire, cioè è un colore molto più acceso, tipo la femmina nera e il maschio nero. Vedrete che la femmina è più schiarita e il maschio è più scuro, ok? Questo è il metodo che viene usato da tutti quelli che studiano i pesci per capire, però ovviamente è un metodo che non sempre ci riesce, perché tante volte si prendono due femmine e magari il venditore si è confuso e prendendo due femmine non riesce a riconoscere il maschio e sembrano due femmine o due maschi, magari tu pensi che sia una femmina o un maschio, ma poi in realtà è perché il colore non sempre si riesce a riconoscere molto chiaro, però per esempio quella che vedete arancione, che vi ho fatto vedere ieri, è molto facile da riconoscere col maschio che avevo, che mi è morto, ed era nero quel maschio lì ed in poche parole si riconosceva molto, perché la femmina era arancione ma chiarissima, è quasi bianca, e il maschio era nero tutto scuro e questa era la differenza e poi il maschio tende a diventare leggermente un po' più grosso. Intanto ragazzi vi volevo anche tenere presente che ovviamente non potete ovviamente voi riconoscere uno squaletto da un altro pesce totalmente diverso, come un pesce gatto, nel senso lo squaletto che è quel pesce lì che ho grigio, che ho fatto vedere ieri abbastanza grosso, lui non lo puoi riconoscere a quell'arancione o al pesce gatto perché non puoi riconoscere il colore perché sono proprio due razze diverse, ma se c'hai un suo simile o forse meglio uno della sua razza riesce a riconoscerli. Volevo anche parlare dell'accoppiamento perché magari voi mi dite, ma io ho tantissimi pesci ma non ce n'ho uno che mi faccia i piccoli. Ecco, l'accoppiamento fra pesci è un accoppiamento molto 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 strano perché non è un accoppiamento certo che si vede tutti i giorni, perché i pesci hanno un modo da accoppiarsi molto raro, nel senso che devono trovare intanto il maschio o la femmina che sono molto compatibili, nel senso che hanno un carattere, cioè io avevo un maschio, quello nero, e aveva un carattere molto spento, cioè stava sempre nel suo vaso, usciva solo per mangiare e non è che avevano molto possibilità di incrociarsi perché poi lo squaletto li inseguiva un po' e non li faceva mai stare insieme. Già, se voi prendete uno di quella razza e un altro di quella razza e dal venditore vi fate consegnare una femmina o un maschio, lui vi darà una femmina e il maschio e è più probabile. Però l'accoppiamento non è che dici una settimana c'è il piccolo. No, l'accoppiamento fra pesci ci vogliono tanti anni perché devono convivere e quando cominciano a convivere dopo un po', loro cominciano a fare piccoli accoppiamenti e solitamente vengono concepiti anche cuccioli, ma è molto raro perché anche un pesciolino, anche se avete tantissime femmine e tantissimi maschi della stessa razza, potete magari, cioè per dire, io per esempio di cucciolate non ne ho mai mai avute di pesci tropicali, di pesci rossi due volte, perché i pesci tropicali hanno, cioè io ho i pesci rossi che però li tengo in una fontana mentre i pesci tropicali li tengo in un acquario e la differenza è che il pesce tropicale che tengo nell'acquario è, cioè diciamo, ecco, quelli che ho rossi non sono, diciamo, miei, tra virgolette, sono, diciamo, miei da metà parte, questi sono proprio miei, miei, miei. Quindi in poche parole io mi concentro su di loro, però comunque anche loro comunque potrebbe essere che la faranno una cucciolata, però comunque viene più svolto dai pesci rossi perché i pesci rossi tendono comunque a essere pesci molto più compatibili perché i pesci tropicali tendono a essere, magari c'è il pesce quello più, mentre i pesci rossi sono più sicuri di loro, cioè loro se ne viaggiano nella loro acquario, già i pesci tropicali tendono a essere più pesci che hanno più caratteristiche e sono più interessanti da scoprire, mentre il pesce rosso più o meno, sappiamo già com'è il pesce rosso, è un pesce che può essere rosso, giallo e se siete fortunati nero e tende ad essere un pesce che non ha grandi cose da scoprire, invece sul pesce tropicale ce n'è un milione, a me piace molto di più il pesce tropicale, ma credo a tutti, perché il pesce tropicale è un pesce che comunque ha molte più cose da scoprire, perché comunque già ci sono pesci che non è il solito pesce rosso e quindi diciamo che loro sono più difficili perché sono pesci meno studiati o comunque meno visti da persone normali, solitamente si vedono i soliti pesci rossi e quindi i pesci tropicali hanno la capacità di avere più caratteristiche a quelli dei pesci rossi, i pesci rossi tendono ad essere più facili perché loro sono più svelti loro, nel senso, non so, li butti lì due maschi e due femmine, magari è probabile che ti fanno una cucciolata e te manco te ne accorgi, infatti io ho questa fontana qua che non è mia, però comunque ci tengo comunque a vederli qualche volta li do da mangiare, anche se non sono i miei, perché i miei sono questi e anche io ho avuto pesci rossi, però mi sono di sicuro piaciuti i pesci tropicali. Il pesce rosso comunque è un pesce molto più facile a vedere un accoppiamento perché loro sono, come dire, ovviamente è anche un modo che consiglio per farli, cioè se voi avete due pesci della stessa razza, maschio e femmina, consiglio di togliere tutti gli allestimenti e lasciarli solo loro due così si incrociano molto più spesso, comunque è un consiglio e mentre i pesci rossi comunque se te ne prendi già quattro è più facile perché loro tendono a essere molto più, molto più facili nell'accoppiamento. Quindi ora vi spiego anche come funzionano i piccoli. I piccoli non è vero che se tu lasci i piccoli nell'acquario vengono mangiati, dipende da che madre è il pesce e da che figli sono i pesciolini. Nel senso, se i pesciolini sono molto ma molto veloci, molto coraggiosi e soprattutto sanno ben sopravvivere, loro teoricamente riescono a fare un bel branco. E la madre dipende se la madre di pesce è molto che li protegge o è anche che qualche volta li gira, magari perché li prendono al mangiare e li va a morsicare. Questa va in base al carattere che voi dovete conoscere molto bene il pesce. Io già i miei pesci, ora come ora, se mi farebbero mai dei piccoli, è difficile che succeda tutto rose e fiori perché comunque c'ho lo squaletto e lo squaletto è un pesce che è quello lì grigio. Lo squaletto tende a essere un pesce abbastanza aggressivo, si può dire. Comunque soprattutto si vede pesci piccoli, infatti solitamente li mangia. Quindi, come dividerli? Ovviamente i pesci tropicali sono difficili da dividerli perché loro gli serve l'acqua calda e poi spiegherò in un video anche come funziona, come avere un acquario di pesci tropicali. Comunque, a fatto sta che comunque i pesci tropicali in sé, come me, cioè squaletti e tutto, è più probabile che i pesci non arrivano neanche a due mesi. Mentre già un pesce come può essere, i pesci rossi secondo me è più probabile perché nelle mie due cucciolate non l'ho mai divisi. Ovviamente il pesce tropicali è il problema, come vi stavo dicendo, che ho perso il discorso, non potete metterlo in una conchetta come potete fare sul pesce rosso perché io consiglierei questo se avete dei pesci rossi. Togliete i cuccioli e li mettete in un contenitore. Ovviamente consiglio non le bocce perché li confondono la vista, quindi consiglio magari un tipo una vaschetta, ecco le vaschette, e ci li mettete dentro, aspettate che il pesce diventa, si può dire così, e poi li ributtate nell'acquario con i pesci rossi. Con il pesce tropicali non si può fare questo perché andate a morire il pesce tropicale perché lui deve stare nell'acqua calda. Quindi dovete provare a cercare di starci un po' dietro, magari dargli due colpetti nel vetro, se sta vicino magari il pesce a voler dare una morsicata, starci un po' più dietro se avete tempo, sennò è difficile che arrivano a sopravvivere. Quanti pesciolini fanno? Solitamente ne fanno sette, solitamente. Comunque possono variare ai sette, ai cinque, e anche se siete proprio fortunati ai dieci. Ovviamente più ce ne sono e più è probabile che sopravvivono. Ok? Se ne avete già dieci non vi sopravviveranno tutti, questo è certo. Ovviamente vi do anche un altro consiglio, e poi chiudiamo il video, è quello di stare molto attenti al carattere del pesce. Se voi conoscete quel pesce lì, e magari è il pesce rosso, però enorme, però è bravissimo lui, allora potete fidarvi e lasciargli i cuccioli dell'altra pesciolina. E se invece vedete che è un pesce molto aggressivo, toglieteli. Se avete i pesci tropicali non si può fare questo. Vi saluto e poi faremo un altro video dove parlerò della differenza fra un pesce tropicale e un pesce rosso. Ciao ragazzi, alla prossima!